e benvenuti in un nuovo video ragazzi nuovo video con la nostra beach bar summer vacation batteria della piromagia fa anche rima quindi benvenuti e dunque è dato un po che volevo provare qualcosa della piromagia ho detto le cose migliori stanno sempre nelle più piccole per così dire ho visto già parecchio in giro le 16 e 25 ho detto proviamo le 36 proviamo questa 36 la beach bar summer vacation con codice se non erro prm 36 trattino 2 c'è anche la verona ma secondo me ragazzi piccolo spoiler è quello che penso quindi insomma ognuno di voi magari la potrà pensare diversamente ma io intanto la consiglio e secondo me è la migliore 36 colpi della piromagia ovviamente a calibro 20 perché anche volendo non si può paragonare a quelle con calibro grosso semplicemente perché non c'è come sparare sulla croce rossa non non ha senso ma è comunque la migliore di questi dei modelli a 36 bassi a calibro 20 quindi questa beach bar summer vacation con una grammatura nemmeno nemmeno indifferente una grammatura di 270 grammi quindi anche parecchio ma perché c'è molta cura nello spacco molto cura nel colore e vi dico ci stanno cassette di così commerciali perché questa è una cassetta assolutamente commerciale che chiunque voglia sparare qualcosina di carino può fare e se ne trovano se ne trovano anche della teanese anzi la teanese adesso sia si sta anche rimodernando e magari delle cassette che conosciamo tutti che magari erano un po più scarne iniziano invece a riempirsi di colore di qualità e questa beach bar è una cassetta esemplare perché ho visto che la piromagia sta importando molto materiale per i pirotecchi per chi spara quindi monocolori di tutti i tipi ho visto adesso la la pokemon e la la pokemon e la free stones da 36 colpi e così monocolori come la batman come quelle che avevamo già visto all'inizio ovvero le 49 mascheter e via dicendo witch tutte queste tipo di cose ma importano materiale di ottima fattura di ottima qualità come questo anche a livello commerciale ed è ottimo mi fa davvero piacere per il mercato italiano perché vuol dire qualcuno si è accorto che è bene fare le cose cariche di colore invece che solo di botti violenti inutilmente questa cassetta invece cura entrambi allo stesso modo perché i colpi si fanno sentire perché il sound è abbastanza curato è una batteria tuttavia allegra molto vivace che vi consiglio vi consiglio questa beach bar summer vacation che fra l'altro è molto curata in quanto è assortita ovvero ha 36 colpi e sono 6 effetti infatti anche avevo visto la verona ma la verona secondo me non è nulla rispetto a questa beach bar che poi la beach bar è probabilmente una piccola variante della loa 49 colpi bella anche quella e comunque la beach bar inizia con delle peonie multicolor che raggruppano tre colori molto particolari giallo verde e rosso tre colori in una peonia con crackling un crackling abbastanza curato delle aperture abbastanza larghe ricordiamoci questi tre colori rosso verde giallo ok perché ci serviranno dopo seguiti da un altro effetto molto elegante e molto bello ovvero una peonia blu con tremolante dorato bellissimo un dorato fantastico veramente non mi aspettavo fosse così tanto luminoso dopo di che dopo di che dopo di che ci stanno altri effetti che voglio che voi scopriate nel nel test a fine video ma ne voglio ricordare soltanto alcuni perché comunque sono fantastici ovvero come la fantastica peonia rossa con crisantemo crackling che vabbè veramente assurda veramente ottima e il finale la cosa importante è il finale che riprende i colori iniziali ovvero rosso verde giallo ma flash quindi gli ultimi sei colpi veramente ragazzi io quando li ho visti ero tipo wow sono praticamente aperture di stelle rosso verde e giallo tremolante strobo quindi glittering praticamente finisce col glittering che è un effetto che in generale non mi piace moltissimo ma lo fa in un modo fantastico i colori si vedono e sono bellissimi quindi dei colori iniziali ovvero rosso verde giallo che iniziava col crackling li riporta ma col tremolante quindi c'è una cura strabiliante veramente ottima cura ottima scelta di effetti e niente da dire veramente ottima non ha molta durata circa 30 secondi ma è ottima quindi ve la consiglio vi lascio al test e ci vediamo presto fatemi sapere cosa ne pensate grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.